La provincia di Pescara, un ente in disarmo a causa della riforma del Rio e l'allora presidente in qualità di funzionario politico, non poteva avere responsabilità amministrative. Per l'ex dirigente di Incecco invece era in malattia, le sue funzioni erano sospese, tuttavia in qualità di massimo dirigente il settore viabilità ha fatto tutto quello che poteva fare ed anche di più. Questo è lo succo delle ringhe degli avvocati Marco Spagnolo, Gianfranco Iadecole, Augusto Lamorgia, a difesa dell'ex presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco e dell'ex dirigente Paolo Dincecco per i quali l'accusa ha chiesto rispettivamente sei anni e dieci anni di reclusione per la tragedia Rigopiano. Antonio Di Marco era esclusivamente dal 2014 il presidente della provincia, quindi organo politico, organo non dotato di alcuna potere di amministrazione attiva. Il dirigente Paolo Dincecco riteniamo che invece in qualità di responsabile ultimo del servizio viabilità oltre ad una serie di servizi adesso connessi o addirittura a spazi invece di amministrazione completamente disgregati dalla servizio viabilità in un momento in cui la provincia, abbiamo detto questa mattina, era un ente totalmente in disarmo, rispetto a questa posizione riteniamo che l'ingegner Paolo Dincecco abbia davvero fatto tutto ciò che era nella possibilità di fare sia in qualità di dirigente che addirittura in qualità di mero cittadino che preoccupato dal letto diciamo della malattia di quello che stava accadendo ha provato persino a come dire prendere informazioni e cercando di sollecitare dove ha potuto quello che potevano essere diciamo delle ipotesi solutive. Spagnolo ha anche puntato il dito su presunte responsabilità dei gestori dell'hotel per il mancato rispetto del disciplinare in caso di terremoto. Quel 18 gennaio ci furono ben due scosse e si sarebbe dovuto da prassi sgomberare l'hotel per poi far rientrare gli ospiti solo dopo specifiche verifiche statiche della struttura. Invece tutti gli ospiti furono invitati a restare dentro. Un riferimento a questo respinto con forza da Rossella del Rosso, sorella del titolare Roberto, anche lui tra le 29 vittime. Io voglio precisare due cose fondamentali. Nel piano neve per la zona 1 non c'era alcuna turbina e questo mi sembra che sia un aspetto insindacabile. Seconda cosa nessuna delle richieste che sono state rivolte ai funzionari della provincia e in particolare al dottor Di Marco sono state poi trasmesse in occasione del Core. In ultimo ci si preoccupava da parte del Dincecco di far arrivare una turbina a Rocca Caramanico per liberare 4 o 5 persone che erano risalite dopo la pulizia della strada effettuata nel 2016. Una turbina che invece per ammissione nello stesso Dincecco era destinata all'alta vestina dove in effetti non c'era nessun mezzo.